La mia delega che è stata chiaramente voluta fortemente dal sindaco Luigi Brugnaro perché il sindaco ha voluto creare un servizio che è sempre mancato in questa città e nelle passate giunte. Io ho ricevuto come rapporto con i cittadini precisamente 440 cittadini. Il 50% di questi cittadini sono venuti a parlarmi per problemi del sociale, per problemi di lavoro, problemi di casa e di questi 50% la maggior parte sono persone che hanno da 50-70 anni. È stato un lavoro molto particolare, un lavoro di trole quinto, un lavoro silenzioso. Ho cercato di aiutare queste persone, di facilitare, di semplificare la loro vita sotto l'aspetto burocratico. È questo che ha voluto fortemente il nostro sindaco e credo che abbiamo dato un buon risultato per il momento. Per quanto riguarda il lavoro, la Comune di Venezia non ha la competenza specifica sul lavoro, ce l'aveva la ex provincia, oggi città metropolitana, oggi ce l'ha la regione, ma anche il lavoro è stato importante in quanto siamo stati sempre vicini ai lavoratori e ai lavoratrici, ma soprattutto stiamo cercando con la nascita dell'Agenzia dello Sviluppo di creare posti di lavoro. Per quanto riguarda lo sport, io ringrazio Matteo Senno, che è il presidente della Commissione Consigliare dello Sport. Anche qui stiamo lavorando con... negli ultimi due mesi abbiamo dato un'accelerata. Il sindaco, proprio la settimana scorsa, ha voluto incontrare tutte le 60 società che gestiscono i nostri impianti e ha dato a loro la possibilità di prorogare di un anno appunto il loro lavoro. Chiaramente con una motivazione ben precisa, in quanto c'è una nuova legge che dà la possibilità appunto a queste società di poter investire nel mondo dello sport. Quindi io credo che è stato fatto tanto, si potrà e dovremmo fare ancora tanto e auguro a tutti buon lavoro.